Ciao ragazze, eccoci qua Buona Pasqua Ancora qua a mangiarci l'uovo Dove ho fatto in casa? Fallo vedere, è tutto aperto? L'abbiamo appena aperto il nostro nocciolato Che avete? C'è ancora scritto a Pachito rimasta Ma noi ce l'hanno mangiata Quindi se volete vedere L'abbiamo spacchettata E lei ha aperto la sorpresa Sul mio primo canale Proprio oggi, andate a vedere il link Vi lascio il link qua Adesso, grazie per aver aperto questo video Vuol dire che state guardando il nostro video Nel nostro canale di cucina Mi raccomando, iscrivetevi anche a questo canale Dove facciamo tante ricette Io e lei, io e Pachito Tutte ricette sane Tutte ricette buone, golose Naturali Tanti video nuovi, tanti format che abbiamo visto Tipo reality, vlog Abbiamo pensato tanti nuovi video per voi Da pubblicare su questo canale Prossimamente vi faremo un video In cui vi diremo tutto Risponderemo a tutti i vostri dubbi A tutti i vostri commenti su questo canale Vi diremo un po' come sarà la filosofia di tutto ciò Sì, in pratica abbiamo deciso di fare Tra qualche giorno un video In cui vi diamo un po' di spiegazioni Perché insomma c'è stato un po' di casino Il cambio nome del canale Un po' di cose Quindi abbiamo pensato di cambiare un pochino Tra virgolette Delle cose E quindi vi vogliamo dire queste cose nel video E vi diremo anche le nuove idee che abbiamo avuto per questo canale Voi nel frattempo iscrivetevi Perché ci saranno tante tante belle novità Tanti video nuovi La prima è proprio adesso Eccolo qua Sto bel paccozzo Tutto per voi Andiamola ad aprire Questo è il nostro però Perciò a tre cose se la peste Perché è il nostro E ci vediamo che questo è il pacco Che ci ha mandato Veganobio Che noi ringraziamo tantissimo Che è questo sito bellissimo Che vende tutti i prodotti biologici Naturali Veramente veramente buoni Tutti senza olio di palma Tutti buoni buoni E appunto Veganobio ci ha mandato questo pacco Questo è per noi Però poi la vincitrice Insomma riceverà lo stesso pacco Con gli stessi prodotti Quindi fantastico Siamo contentissime Abbiamo chiesto E a loro ha fatto piacere Insomma farvi questo regalo E quindi noi siamo contentissime Così anche voi avrete tanti prodotti bio Quindi adesso vi facciamo vedere Cosa contiene Cosa riceverete Per partecipare Basta che lasciate qua sotto dei commenti Il giveaway è aperto 10 giorni Quindi voi potete commentare Per 10 giorni Lasciare un massimo di 5 commenti a persona Questo vuol dire che potete lasciare Un commento oggi Un commento domani Un commento fra 3 giorni In 10 giorni Potete lasciare 5 commenti a persona Noi poi faremo un'estrazione E la persona che vincerà Appunto lo comunicheremo il nome In un nuovo video Sempre su questo canale E la persona Vincerà un tacco Con gli stessi prodotti Che adesso vi facciamo vedere Perché questi sono nostri E ce li andremo a mangiare tutti Alcuni già li abbiamo mangiati ad aperto Perché dovevamo fare la recensione Solo per te Vabbè ma noi amiamo queste cose Le ragazze lo sanno Ormai ci conoscono bene Stai ancora tutta spottacita Circolata Prima ho mangiato l'olio Circolata Vabbè non fa niente Buona Pasqua Pure qui ve lo diciamo Buonissima Pasqua Già ve l'abbiamo detto nell'altro video Buona Pasqua e Pasquetta E fateci sapere nei commenti Se avete fatto qualche nostra ricetta L'uvo di Pasqua Il casatello La pastiera La pastiera Buona buona napoletana E adesso andiamo ad aprire Dai Tensi Vado apro Vai Vediamo Vegano Bio Che ci ha mandato Vabbè noi già lo sappiamo Che ci ha mandato Tutto bello in questo Coso refrigerato Giriamo 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 Prima che cosa facciamo vedere Io direi di far vedere Prima questi qua Questi sono molto belli Sono praticamente Dei Seitan Che è molto molto buono Di questa marca Che si chiama La Casa Madre Che è una marca Veramente ottima Perché Tutto fa molto Genurino Naturale Non trattato Completamente biologico E C'è scritto Lavorato a mano E infatti È così È molto buono Il sapore è molto buono C'è questo qua Che ha fettine Ed è molto molto È veramente saporito Questo sedano A noi piace tanto Sia il sedano Che anche il tofu Vero? Noi già l'altra volta L'abbiamo provato ed assaggiato Ed è veramente buonissimo Sì è buonissimo Infatti noi vi abbiamo fatto Anche un altro video Sì In cui vi abbiamo fatto vedere Questi prodotti Però sul nostro canale Sullo primo canale E appunto La pure vi abbiamo fatto Tanti prodotti Sì erano altri prodotti Rispetto a questo È completamente diverso Qualcosa forse di simile Forse solo questo È questo qua Questo è il tofu Che è anche molto buono Sempre di questa marca La casa madre Che appunto Ho detto È una cosa molto artigianale È molto buona Quindi molto naturale Meno secco Rispetto al sedano originale Io trovo Io trovo Che ha un sapore Un po' più naturale Un po' più genuino A volte è sedano al tofu Sono un po' Hanno un sapore un po' Non sanno di nulla C'è tosto Invece questi Tosto significa duro In italiano Duro Nel senso che Come se fosse un po' stantio Non so Invece no Invece questo è proprio buono Morbido Poi ci hanno mandato anche questo Questo è il formaggio spammabile alla soia E A me è piaciuto molto L'altra volta Sto far vedere L'altra volta però era bianco Quello classico Invece questo è Una specialità Perché con i pomodori secchi Questo è il pomodoro Quindi deve essere ancora più buono Nell'altra volta Veramente ci siamo innamorati Di quello là Veramente tanto È buonissimo Un formaggio spammabile Senza formaggio Cioè a base di soia Quindi è completamente vegano Infatti È sano È buono Anzi È un sapore così delicato Quello bianco Questo qua Non l'abbiamo aperto ancora Però secondo me È ancora più buono di quello Sì sicuramente Perché poi con questo sapore Dentro di pomodoro Ovviamente qua non ci sono Oli vegetali Oli idrogenati Non c'è olio di palma Ed è completamente naturale Sano Questo ad esempio Nella piadina Eccola qua Anche la piadina Eccola la piadina Ci hanno mandato La piadina romagnola Però biologica Ed è molto spessa Quindi secondo me è buona questa qua E poi è già tagliata a metà Guarda è a mezz'una È già tagliata a metà È troppo carina E questa qua È della marta piadineria È proprio una piadineria Appunto Che le fa Senza ovviamente Senza strutto Senza strutto Quindi completamente sana E dietetica Contiene farina di frumento Zero Quindi non raffinata E poi contiene L'olio di semi di girasole È il sale Comunque Secondo me è molto buona È completamente biologica E naturale Stasera piadina Con questo spalmato Adesso vediamo Che cos'altro Mettereci Cosa ci mangiamo tutti Ci possiamo mettere anche Questo a fettine È vero Questo è buono Molto buono Va bene Abbiamo fatto la cena Poi che cos'altro Questi sono i miei preferiti Ragazzi Già li abbiamo aperti Ovviamente Sono dei cupcakes al cacao E sono buoni Perché sono semplicemente Con flakes e cacao Non c'è zucchero Non c'è olio Non c'è burro Ma dalle come sono carini Sembrerebbe strano Ma sono buonissimi Sembrano proprio Quelli originali Cioè sono fatti Con farina integrale Adesso non capisco Molto bene Perché è un po' tedesco Però è completamente Biologico e naturale A me questa marca Piace molto Ho provato varie cose Sono ottime E cacao Cioè veramente Sono super sani E naturali Senza grassi Nel latte Sono proprio buoni Non abbiamo provato Ma vedi la cosa bella È che sono super croccanti Sì sì È vero Anche nel latte Non si diciamo Non si ammollano E sono proprio crunch Sono troppo Troppo buoni Questi cilai A me Io me ne sono innamorata Cioè Adesso voglio La croccantezza È vero È vero È vero È vero Sono troppo buoni Sì è vero Sono buoni Questi proprio nel latte Ma anche nello yogurt I love it I love it I love it Ovviamente ne amo troppo ragazzi A proposito di latte Ci hanno mandato questo latte Qui è una novità Questo è il latte in polvere Il di riso è pinoli È un latte vegetale Non un latte vaccino E prepara con l'acqua Si mischia questo preparatorio Che c'è nella busta In polvere con l'acqua Si mischia Insomma viene proprio il latte Eccolo qua Noi una busta Già l'abbiamo preparata Perché questa Ne escono due buste Che è una cosa molto economica Perché questa qua Mischiata con l'acqua Ci fanno due bottiglioni di latte Insomma costa poco È molto molto conveniente Ed è questo latte biologico È naturale A base di riso e pinoli È come se fosse latte di riso Il sapore è buono È molto delicato È molto delicato È un latte di riso Un po' Come se sapessi Anche un po' di frutta sicca Sì sì è buono Poi voi lo potete Dato che quello è proprio naturale Non c'è nulla Conservanti nulla Lo potete anche dolcificare Ad esempio ci mettete un po' di sciroppi Un po' di acero Oppure non so Ci potete mettere un po' di cacao Ma forse ci mettete questi dentro Ragazzi Noi così abbiamo fatto Abbiamo fatto una zuppetta Abbiamo fatto una zuppetta Con i cereali Buonissimo Poi che cos'altro c'è Ah questi qua Anche sono carini Sai perché questi sono Dei preparati Anche questi sono molto economici Perché c'è Il falafel Che è questo qua È praticamente una polverina Che anche questa qua È un preparato Per preparare delle hamburger Questo si chiama burger E non è un preparato Per preparare i burger E sapete che questa bustina Non costa neanche tanto E si possono preparare Tipo 16 a burger C'è scritto Quindi è molto molto conveniente Se voi mangiate Questi burger Di soia Di seitan Di tofu Che si vendono No? Questi vegetali E vegani Vi accorgerete Che costicchiano un pochino Infatti noi abbiamo fatto Anche il video Per farli in casa E così conviene Secondo voi Perché è un preparato Molto semplice A preparare Fate tanti burger E avete pagato Questo qua Sembra costa Intorno ai 3 euro Non vorrei sbagliare Però non avete fatti Pari Quindi molto conveniente Poi guardate Che cosa ho trovato Volevo aprirla Devo dire in realtà Questa è una barrettina energetica Come quelle che Già abbiamo mostrato L'altra volta È sempre cruda Questa che faccio vedere È una barretta cruda Con cioccolato Mandorle Arancia E non so Quora l'abbiamo assaggiata Però penso che sia Proprio buona È spiziosissima Poi quelle energetiche Prima di fare sport Noi veramente Le adoriamo tanto Non c'è lo zucchero Ma è dolcificato Con i datteri Quindi È buonissimo Non è molto calorica È sano C'è un prodotto proprio sano Poi c'è qua C'è questo Questo che cos'è Si chiama Taboul Taboul Ed è vegano È couscous Con altre cose È praticamente un couscous Che dentro Già è preparato Con alcune verdurine secche Anche questo È molto carino Vabbè Noi amiamo il couscous Lo prepariamo in tutti i modi Però Avere già una cosa Diciamo Tra virgolette Pronta No Che già c'ha magari Qualcosina dentro Di verdure Eccetera Conviene Ed è Non vi do l'ora Di provarlo Veramente Io lo adoro Il couscous Poi fa vedere Quella là Quella là Che a te ti piace Dal pacco di tempo La sto guardando E la voglio provare Falla vedere Falla vedere Anutel Così si chiama ragazzi Anutel Ma me ne risate Quando è arrivato Sto pacco Che abbiamo aperto Allora mio padre Aveva usato Anutel Perché cosa ha detto qua Anutel C'è incredibile In napoletano Anutel È proprio quella là Però ovviamente Questa qua È una crema di nocciole Completamente sana Naturale E biologica Che non contiene Olo di palma Non contiene zucchero Non contiene grassi È anche molto dietetica Perché contiene Comunque Tipo Neanche 300 calorie Per 100 grammi E vi posso assicurare Che è molto di meno Rispetto all'originale Ma puoi salutare Rispetto all'originale Perché non c'è lo di palma Non c'è zucchero Considera che c'è È fatta con il farro Le mandorle Le pinoli Il cacao puro La stevia Il dolcificato con la stevia Quindi completamente La stevia ha zero calorie Sì zero calorie E poi c'è lo sciroppo di datteri E poi c'è l'olio essenziale Di cannella Cioè è fantastico Questa non vedo l'ora Di provarla Veramente Perché secondo me È buonissima Infatti c'è scritto Senza olio di palma Né olio di cocco Zero lattoso Quindi non è anche lattosio Senza olio di palma Senza zucchero Senza olio di cocco Senza nulla Comunque è proprio Un prodotto veramente sano E non vedo l'ora Di provarlo Vi faremo sapere su Instagram Adesso abbiamo ancora La nostra carlitella Da finire Io poi ci tengo molto Ad aprire le cose Al momento giusto Perché se no poi vanno a male Sono un po' confissata È brutto spiegare Dato che abbiamo ancora La nostra carlitella Da finire Appena la finiamo Apriamo questa qua Vi mettiamo la fotina Su Instagram In una colazione In una merenda E vi facciamo sapere Poi le ultime due cose Allora Infuso di Achillea Ottimo Che io amo tantissimo Gli infusi I tele Tisane Lo sapete Ormai mi conoscete bene Questa è un antinfiammatorio Ma anche L'achillea Anche per Come digestivo Per lo stomaco È molto molto buona E poi allevia I dolori mestruali Sì Io stasera Mi preparo Una bella tazza Non vedo l'ora Facciamo vedere Anche quello là L'ultima cosa Assieme a Nutella Le fette biscottate Ragazze Carotel Queste sono fette biscottate biologiche Con farina di segale E fiocchi d'avena Senza burro Senza zucchero Senza latte E senza olio di palma Perché sai che le ragazze Ci chiedevano sempre C'erano Carita ma C'è con delle fette biscottate sane Senza zucchero Senza olio di palma È difficile a trovarle Queste sono proprio così Sono proprio Soltanto la farina L'olio di girasole Ah Il dolcificato Lo vuole uscire un po' D'agave Quindi non c'è nello zucchero Nei grassi Nulla Poi sono molto belle Anche come aspetto Insomma Perché sono proprio Belle spesse Sembrano proprio croccantose Belle Alle naturali E dietetiche Pronte per spalmarci Il pacco è finito Il pacco è finito Questo pacco è per voi Ragazzi L'avete capito? Avete capito che questo pacco è per voi Cioè queste cose sono nostre Diciamolo di nuovo Queste cose sono nostre Però Voi commentate Perché fra dieci giorni Estrarremo un nome E la pepe Che succede? Che succede? Attimo di panico È caduto in un altro scatola Yes Siamo vive E viva Ci abbiamo fatta Quindi vi dicevo Ormai i nostri video sono così Sono pazzi Lo sapete Fra dieci giorni Saremo una di voi Che vincerà Queste stesse cose Questo stesso pacco Di vegano bio Che vi grazie Avete biscottate Tutto 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 quello che avete visto Riceverete tutto È chiuso ovviamente Perché quasi Già abbiamo aperto Adesso andiamo a mangiare Ragazzi Speriamo tanto Che questo giveaway Vi abbia fatto piacere Mi raccomando Per partecipare Iscrivetevi al nostro canale Di cucina Tante novità E tante sorprese Sì sì Vi aspettiamo Lasciate tanti commenti Tanti commenti E partecipatevi Mandiamo un bacio grande Ciao Ciao Ciao